In questa seconda parte del nostro appuntamento di Angoli usciamo dal nostro studio per assistere al primo evento per il 2023 di Comoacqua. Per noi Mariella Petaggine e vediamo che cosa è successo. Grazie a Dori della linea noi ci troviamo presso Villa Gallia a Como per prendere parte ad un convegno organizzato da Comoacqua, la società che gestisce il servizio idrico del territorio. Scopriremo tutto quello che riguarda il mondo dell'acqua, quanta acqua abbiamo, da dove proviene, quali sono i rischi legati all'acqua e come valorizzare questo prezioso elemento. Il convegno di oggi ha un titolo molto esplicativo, ma tu conosci l'acqua? Cosa scopriremo in questa giornata Enrico? Di fatto una domanda direi provocatoria, ma tu conosci l'acqua, l'obiettivo del convegno direi anche ben riuscito, è proprio quello di valorizzare la risorsa idrica andando a sensibilizzare quello che è il pubblico presente oggi e quindi cercare di far capire anche da vari punti di vista, da quello accademico, della ricerca e quello operativo, gestionale e quindi di coloro che sono sul territorio quotidianamente a far funzionare il sistema del ciclo idrico integrato, a far capire esattamente cosa ci sta dietro e quindi sostanzialmente conoscere il mondo dell'acqua. Ma il cittadino conosce davvero l'acqua? Beh, direi che sempre di più il cittadino sta diventando consapevole, consapevole grazie anche all'intervento del gestore Comuacqua che quotidianamente opera e sta effettuando investimenti di risanamento e di riqualificazione delle nostre infrastrutture provinciali. Professore, il convegno di oggi parte da una domanda fondamentale, da dove arriva l'acqua? Da dove arriva proprio questo fondamentale elemento della vita? L'acqua, oltre a scendere dal cielo, ovviamente, in realtà quella che noi beviamo arriva dal sottosuolo, ma prima di arrivare al sottosuolo due fonti molto importanti sono i nostri ghiacciai e il ghiaccio che rimane nel permafrost, che è molto meno conosciuto, ma che diventerà sempre più importante nelle nostre zone. Queste due voci sono due voci che costituiscono la riserva. Ovviamente, dopo fasi di crisi idrica come quella dell'ultimo anno, la riserva diventa strategica ed importante ed è quindi importante e fondamentale andare a conoscere, studiare e preservare questa riserva. Qual è la condizione dei ghiacciai nel nostro territorio? Purtroppo, ormai è noto a tutti, anche dopo quest'estate in modo particolare drammatico, che i ghiacciai sono in una condizione pessima, anche se appunto quel ghiaccio che non è conosciuto, che è il permafrost, ma anche ghiaccio di ghiacciai che si stanno ricoprendo di detrito, potrebbero divenire un'ultima riserva che potrebbe durare un po' di più di quanto era stato previsto. Consideriamo che l'IPCC aveva previsto la scomparsa dei ghiacciai alpini per il 2050, dagli ultimi studi probabilmente possiamo andare un pochettino oltre. Chiara, abbiamo avuto modo di ascoltare le tue parole al convegno e vorrei approfondire alcune curiosità, partendo proprio da come riuscite a controllare l'acqua che arriva nelle nostre abitazioni. Allora, noi controlliamo tutta l'acqua che distribuiamo presso le adibilizzazioni di tutto il territorio del Comasco attraverso l'utilizzo di laboratori accreditati 17.025, in modo da avere la certezza di avere dei dati affidabili, imparziali e fatti da professionisti. In questi laboratori sono dotati di tutta la strumentazione più moderna, in grado di determinare la conformità ai parametri e ai limiti di legge stabiliti appunto in Italia dal Decreto Legislativo 31 e in grado di garantire al consumatore finale di consumare un'acqua salobre, sicura e controllata. Chiara, ma dove possiamo reperire le informazioni sulla qualità dell'acqua che beviamo? Allora, tutte le informazioni relative alla qualità dell'acqua distribuita le si possono trovare sia sul sito internet di tutti i gestori del servizio idrico integrato, nel capitolo qualità dell'acqua, dove vengono rappresentate tutte le caratteristiche dell'acqua distribuita presso la propria abitazione, che essi siano pH, durezza, residuo fisso, tutto quello che può determinare le caratteristiche organolettiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua che noi distribuiamo. Ci sono dei miti da sfatare su quello che noi comunemente consideriamo come acqua buona o acqua cattiva, Chiara? Allora, mi viene giusto in mente un aneddoto che ultimamente le persone sono portate a consumare acqua con un basso residuo fisso, reputando che siano più salubri. In realtà il residuo fisso rappresenta solo la concentrazione di sali disciolti all'interno dell'acqua che noi distribuiamo e questi sali, che possono essere calcio, magnesio, potassio, sono fondamentali nutrienti per l'organismo umano, che l'organismo umano non riesce a produrre da solo, ma deve appunto assumere tramite l'alimentazione e bevendo acqua. Quindi bere acqua con un basso residuo fisso non sempre equivale a bere un'acqua che ci fa bene, perché magari ci priviamo di nutrienti fondamentali che invece potremmo semplicemente trovare bevendo acqua. In questo convegno è stato importante il contributo, il punto di vista degli ingegneri. Cosa ci puoi dire a riguardo? Beh, diciamo che la categoria degli ingegneri ovviamente ha rivesto un'importanza particolare in quello che è il ciclo dell'acqua perché interviene in tantissimi passaggi, quindi sia che si tratti di acquedotti o di gestione delle acque, anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico, gli ingegneri sono un supporto al quale le amministrazioni e anche i gestori della rete non possono fare a meno. Parlando proprio di ciclo dell'acqua, cosa succede all'acqua piovana quando raggiunge i nostri territori? Diciamo che l'acqua piovana è quella che sembra strano, ma le gocce d'acqua che cadono dal cielo sono quelle che poi sono responsabili degli eventi meteorici che spesso causano dei danni ai nostri territori. Quindi l'ingegneria studia anche questo, cioè l'effetto che le piogge hanno sulla formazione delle onde di piene, quindi delle alluvioni e dei disastri che delle volte capitano purtroppo sui nostri territori, anche del territorio comasco ovviamente. Infine, quali sono le sfide per il futuro? Sì, io ho questa idea, il nostro territorio è vero che è svantaggiato perché ha della forma e dei bacini che tendono ad amplificare le piene, ma è anche un territorio che per la sua conformazione è molto adatto alla realizzazione di, per esempio, piccole centrali idroelettriche, quindi l'idea di raccogliere l'acqua prima che arrivi nelle sezioni di chiusura e quindi nelle città in bacini di laminazione ha il duplice effetto di prevenire eventuali danni che queste alluvioni possono creare alle città e creare una fonte di energia potenziale che può essere trasformata in energia idraulica attraverso, per esempio, delle centrali idroelettriche. Paola, quanto è importante trasmettere ai giovani le conoscenze sul mondo dell'acqua? Allora, qualcosa di estremamente importante, soprattutto nel momento in cui trasmettiamo delle conoscenze che non sono facilmente visibili e facilmente tangibili, che sono quelle legate al mondo sommerso, quindi proprio quello che è più difficile da raggiungere da parte dei nostri utenti che sono poi prevalentemente i bambini e i ragazzi delle scuole, quindi abbiamo dovuto escogitare delle modalità per portarli sott'acqua con noi. Quando parliamo del concetto di valorizzazione di un elemento così importante come l'acqua, a cosa facciamo riferimento? Allora, in particolare per quanto riguarda il lago, che è il grande ambiente acquatico che abbiamo sul nostro territorio, ci riferiamo all'ambiente lago come risorsa, quindi il lago ci offre tanto, ci offre tantissimo, al di là di quella che è la bellezza paesaggistica che noi abbiamo, chiamata dai turisti, è una vera e propria risorsa, una risorsa idrica, perché è un bacino che possiamo utilizzare per la captazione dell'acqua, per la potabilizzazione, ma è anche una risorsa ecosistemica, quindi abbiamo una vita all'interno del lago, in parte la sfruttiamo, sul nostro lago abbiamo una settantina di pescatori di professione, quindi mangiamo pesce a chilometro zero, è una risorsa da questo punto di vista, ma l'ecosistema stesso, l'ambiente, se è in salute, ha ricaduto, porta salute anche a tutto quello che lo circonda. Parla, abbiamo anche fatto cenno al progetto ReLake, di cosa si tratta? Allora, il progetto ReLake nasce all'interno di un contenitore più grande, che è un progetto Lake Como Green, che nasce con le Camere di Commercio di Como Elecco e Lega Ambiente, che è un progetto sulle buone pratiche, sulle buone pratiche di sostenibilità, legate proprio a quello che possono fare anche i cittadini, quindi vogliono essere dei progetti di cittadinanza attiva, dei progetti partecipativi. Il progetto ReLake si occupa di quella che era la riqualificazione di una porzione del sommerso, che è la porzione diciamo meno profonda vicino alle rive, in particolare come progetto di restoring ambientale sulla ripiantumazione di piante acquatiche, perché queste piante acquatiche sono dei veri e propri spazi vitali per il nostro lago. Durante il convegno abbiamo avuto modo di guardare le immagini in diretta da una webcam, dove vedevamo un sub. Cos'è che stava facendo? Allora, sono due sistemi con cui cerchiamo di portare le persone sott'acqua stando all'asciutto. Uno è un sistema di videocollegamento subacqueo, quindi i subacquei scendono sott'acqua con delle maschere che coprono l'intero volto, con un microfono all'interno e una ricevente, collegati via cavo in audio e in video. E quindi le persone all'esterno, il pubblico, le scuole, possono parlare direttamente con il subacqueo e vedere quello che il subacqueo sta facendo. Finora ci eravamo concentrati all'esplorazione dei fondali, quindi un'esplorazione guidata dall'esterno. Adesso con questo progetto invece di ripiantumazione, che parte proprio dalla presa di piccole plantule di una piccola area di prateria che abbiamo scoperto sott'acqua, queste plantule vengono fatte crescere in vivaio e vengono poi riposizionate in acqua. Abbiamo messo una webcam fissa davanti alla zona di prateria, in modo che l'area sia completamente controllata e si possono andare a vedere proprio tutte quelle che sono le attività, anche da parte della fauna, che va a interagire all'interno di questa prateria. Ogni tanto attraverso questa webcam è possibile vedere il subacqueo che fa una vera e propria operazione di giardinaggio. Conclusione di questo interessantissimo convegno segue una mostra fotografica che ancora una volta ha per protagonista l'acqua. Sì, un concorso fotografico fortemente voluto da Comoacqua, dal nome Obiettivo Acqua. Abbiamo deciso di avviare questo concorso e di dare la possibilità a fotografi amatoriali, e quindi a qualsiasi persona, di poter presentare un'opera d'arte attraverso lo scatto fotografico. Uno scatto fotografico che rappresentasse l'acqua, l'acqua all'interno della provincia di Como. Hanno partecipato più di 50 fotografi e oggi, quest'oggi, abbiamo premiato i primi tre e i primi 25 scatti fotografici verranno utilizzati nelle nostre campagne pubblicitarie. Quali sono le categorie vincitrici? Le tre categorie vincitrici sono la categoria green, la categoria originalità e la categoria astrattismo. Bene, adesso è davvero tutto. A te la linea, Dori. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre la nostra mail. Continuate sempre a scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it il nostro doppio appuntamento, quello delle 19, quello delle 7 del mattino, per il buongiorno a tutti insieme e come sempre l'informazione. A te la linea, Dori. 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 A te la linea, Dori.